Buongiorno e buon mercoledì. Allora, pollicione, se volete iscrivervi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale. Forza ragazzi, la strada è lunga, ma a 5.000 ci possiamo arrivare. Ora, oggi giorno di lavorazioni, secondo le informazioni dell'Inps, ci tengo a ribadirlo, è stata l'Inps a dire che l'errebbero fatta il 23, non noi, con pagamento per il 25. Ora, sapete che io purtroppo non ho più un referente che mi avvisa, fortunatamente per lui, dico, vista la situazione. Quindi appena le vedete, appena qualcuno ha notizie, avvisi me, avvisi Elena, avvisi Radio Ucce, avvisi Mr. Lull, avvisi tutti quelli di cui vi fidate. In questo modo possiamo informarvi che sono partite. Come vi ho detto, se partono mercoledì, cioè domani, quasi sicuramente le ricariche saranno per il venerdì, sperando che siano migliori del mese scorso, perché il mese scorso è stato un disastro, con ricariche che sono partite alle 18.30 e hanno cominciato a prendere una certa velocità intorno alle 19.30, cosa che tra l'altro è costata a me, Elena, Radio Ucce e anche Mr. Lull, gli insulti da parte di una persona su questo canale che ci ha accusato di fare clickbaiting con informazioni false. Io su questa cosa ve l'ho detto, l'ho presa benissimo, anzi, è quella persona a cui i piedi non ce li mette più, là c'è la porta, si arrangi, perché come se noi fossimo quelli che fanno le ricariche. E mi sembra di che i canali clickbait su questi argomenti ce ne siano già abbastanza, ed è un'accusa che io non accetto, né per me, né per Elena, né per Radio Ucce, né per Mr. Lull. Ora, la questione dei sospesi. Io spero, guardate, io ve lo spero con tutto il cuore di vedere domani persone che passano da sospesa ad accolta. La mia preoccupazione è strettamente legata a quello che dice l'Anci, cioè che sono in ritardo di due mesi sulle lavorazioni, in questo senso. Io qui non voglio fare il classico, è colpa quella, perché qui è tutto sbagliato, tutto. Si sapeva dal decreto lavoro, ci si poteva mettere in movimento prima, si potevano fare tante cose che non sono state fatte, ma adesso continuare a dire potevano così, potevano cosa serve a zero. La realtà è questa che bisogna affrontare. Quindi, chi è nelle condizioni di essere preso in carico, chi sa, perché ci sono questi casi e non sono pochi, di essere già in carico dai servizi sociali, ma la lavorazione, il suo nome non è nella piattaforma GEPI, deve andare dalle assistenze sociali e deve pretendere che questa cosa succeda. Deve, veramente, deve essere categorico e anche duro. Devono farla. Non comincino la storia tipica della burocrazia italiana, della palla che rimbalza. E non l'ha fatto questo, non l'ha fatto quello. Non mi interessa chi non l'ha fatto. Fatelo voi, perché se un tizio non ha fatto una cosa, questo non implica che non puoi farla tu per sistemare il problema. E lo dico perché con questo andazzo e questi atteggiamenti si rischia di arrivare al 31 ottobre e molta gente che ne aveva diritto, diritto sancito dal decreto lavoro, rischia di non prendere niente. E allora in quel caso, ve l'ho detto, andate per vie legali. Non fatevi spaventare dal discorso del costo perché con il vostro reddito potete accedere tranquillamente al pro bono. Potete accedere tranquillamente all'intervento di un legale attraverso il pro bono. Quindi fatelo. Perché qua non si tratta di una cosa che forse qui, forse là. Qui si tratta di un diritto che avete, che avete, sancito proprio da quel cavolo di decreto lavoro e che non vi viene dato per colpa dell'incapacità e dell'incompetenza a tutti i livelli di questo sistema. Questa è la realtà. Non mi interessa se la colpa è di Tizio o di Caio, perché lo stabiliranno eventualmente i giudici. Qui la colpa c'è se gente che doveva averlo non lo riceverà entro il 31 ottobre, arretrati compresi, perderà un beneficio che gli era garantito proprio da questo decreto. Ha tutto il diritto di rivalersi legalmente contro l'Inps o contro i comuni. Perché sono loro che non hanno fatto il lavoro. Basta. Basta essere attendisti. Basta dire, ma come faccio? In ogni città c'è l'albo degli avvocati pro bono, che hanno degli slot pro bono. Vi informate e agite. Perché se no siamo sempre fermi qui. Io ve l'ho detto, dal 18 settembre vi do la mia disponibilità di essere presente e di essere con voi a litigare con questa gente. In piazza, compatibilmente appunto al fatto che io posso pensare al nord, dove si stagna da far paura, quindi qualcuno deve fare qualcosa al nord. Però so che alcuni di voi sono già pronti, sia al centro come in Toscana, che a Roma, che anche nel sud e nelle isole, ad agire. Ed è il momento di farsi sentire. Servirà qualcosa? Io non lo so se servirà qualcosa, ma non si può sempre stare in attesa che avvenga un miracolo. Perché i miracoli con questo governo, in generale con la politica, ma con questo governo sono assolutamente impossibili. Chiudo su una precisazione che mi sembra giusta. Alessandra è una nostra collaboratrice. Si è interessata a questa situazione perché uno è una ragazza molto intelligente, è amica di una delle mie nipoti, si sono conosciute in uno stage fuori stato e sono stato fiero di fargli da relatore per la sua laurea. Adesso sta preparandosi per il dottorato, ma trova che questa cosa sia importante, proprio come impegno sociale. Tanto di cappello che quando vedo un giovane o una giovane che si impegnano su queste cose io sono sempre felicissimo. È probabile, anzi quasi certo, che più avanti, una volta che avrà compreso un po' i meccanismi, anche lei farà i video. Quando io non sono in Italia, quando, oppure anche se sono in Italia magari non ho il tempo fisico, potrebbe essere lei, anzi sarà sicuramente lei, a subentrare e fare i video al mio posto. Io sono sempre presente, non è che sto dicendo lì fai tu, io sarò sempre presente, ma penso che avere anche dei collaboratori che appaiono in video oltre a me non sia una cosa sbagliata e comunque gli serve anche come esperienza per confrontarsi con le difficoltà delle persone. E a proposito di questo, proprio per chiudere, vi chiediamo scusa ma non è stato un errore di Alessandra. Volevo rifare il file video delle 11. L'ho rifatto, è arrivato tardi. Nel montaggio ci sono stati dei problemi per cui il riversamento audio è andato male, per cui si sentiva poco, però non se ne erano accorti sul momento. Oltretutto si è surriscaldato il pc per cui c'è stato anche un problema lì e quindi il video è partito alle 14 e tra l'altro è andato in limitazione. Abbiamo già presentato un ricorso, ma non è che mi freghi molto più di tanto, vorrei capire il perché, ecco, per evitare. Quindi vi chiediamo scusa, sono incidenti tecnici che purtroppo capitano. Ora, mi raccomando, appena vedete comparire le lavorazioni, avvisateci subito, così noi possiamo avvisare tutti gli altri. Io starò comunque in attesa con il mio smartphone vicino, nel momento in cui so qualcosa, partiremo subito il mini video di avviso. Io vi saluto, però alle 4 ci sarà un altro video, non è ancora la questione vannacci, quella la rimando un poco più avanti perché sto lavorando su un video ancora per l'amico Greg e vorrei parlare anche di questa cosa e sto lavorando anche per alleggervi un po' lo stress su una monografia di un attore che fa sembrare Steven Sidia Seagal, un attore decente perché a certi livelli, sopra certi livelli non si può arrivare. Va bene ragazzi, mi raccomando. Ah, un'ultima cosa qui tengo, scusatemi, non ero dimenticato. Dovete considerare questo un posto libero, dovete sfogarvi, sfogatevi, non dovete chiedere scusa, mai, avete capito, non dovete chiedere scusa mai, avete tutto il diritto di cercare un posto dove sfogarvi, bene, questo posto qui c'è, quindi sfogatevi senza problemi. Ok, ciao a tutti ragazzi.